voglio che succede perché non ti stai facendo sentire è quello la che rincoglionito che è chiamato l'antofish dove sta quel finocchio che se non viene lo vado a trovare io e ho detto davanti fallo venire ma che non è venuto veramente uno schifo guarda io certe volte ci rifletto cioè voglio dire mi soffermo a pensare quanto è malato cioè ma veramente ma come dici te cuore mio ha una malattia incurabile cioè vedi un po' quello che sta facendo perché quello sicuramente parla con i dottori non è che non parla allora sta facendo di tutto per non farci incontrare per non farci iniziare a fare i nostri progetti cioè fa di tutto perché sta pensando a quello che ha in possesso mio fratello in modo tale dice che se dovesse volare su nel cielo io non devo fare altro che prendermi tutto cioè veramente cuore mio mi viene lo schifo di questo mi viene lo schifo ecco perché tu devi lottare cuore mio e lo devi fare anche per questo motivo capito perché le cose tue devono rimanere tue capito cuore mio questa è un'altra motivazione in più che hai affinché tu possa guarire completamente un po' di tosse capito cuore mio ma guarda è estruggente questa cosa se la penso mi fa veramente male va bene cuore mio va bene ma c'è che stai facendo sentite che non ti stai facendo sentire c'è che stai sbirciando o stai alla finestra a vedere le altre cose c'è che stai fè ma ti che ti aspetto ciao cuore mio c'è fratello mio ciao duga cia figo me fatti sentii ciao bello Grazie a tutti.